Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado in quella che è la posizione colgata. Da qua si completa la figura. Poi quello che faremo stasera sarà sempre da questa particolare camminata. Adesso cammino sempre avanti, però guardate, non porto la donna all'acqua, porto la donna e poi camminare avanti. L'effetto è che la donna dà una saccada all'uovo. Apertura. Adesso accompagna un altro grande, accompagna, cammina. Allora, messo tutto assieme, facciamo prima tutta la sequenza, mettiamo la sequenza come volete. Allora. 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 Grazie.